E nei comuni del nord? Ma guardi, ennesima tragedia, ennesimi morti nel Mediterraneo, raccoglieremo purtroppo nuovi morti in fondo al Mediterraneo, ci saranno nuove bari bianche, e io credo che questa sia l'ennesima dimostrazione di un fallimento, di un totale fallimento nella gestione del fenomeno dei flussi immigratori. Vogliamo avere, l'abbiamo detto, sono almeno due anni, dal famoso 3 ottobre del 2013, la morte delle 300 persone a Lampedusa, è che noi vogliamo avere meno morti nel Mediterraneo, vogliamo avere meno profughi o clandestini da accogliere, c'è solo una soluzione, che è quella di evitare le partenze. Più navi partono, più navi arrivano e più morti nel Mediterraneo. Noi dobbiamo riscontrare, e lo continuiamo a ripetere in ascoltati, che siamo di fronte al fallimento totale da parte delle politiche di gestione e di accoglienza da parte di questo governo. Io credo che il Ministro Alfano e il Presidente del Consiglio Renzi abbiano una grande responsabilità di natura politica. Hanno gestito nel modo sbagliato questo fenomeno, le cui conseguenze gravi sono le morti nel Mediterraneo, da un lato, e le gravissime tensioni sociali che ci sono sul nostro territorio. Noi stiamo illudendo migliaia di persone che in Italia c'è il benessere, che l'Italia è il ben godi. Torniamo sempre al solito discorso, però è impossibile fermarli, come si è visto. Ma guardi, noi abbiamo anche gestito, perché la Lega oggi fa opposizione, e fa opposizione in maniera estremamente seria, ma abbiamo anche governato questo Paese. Noi abbiamo governato dal 2008 al 2011, abbiamo governato il Paese, abbiamo avuto il Ministro dell'Interno, Roberto Maroni, che ha saputo gestire questo fenomeno. Ricordiamo che nel 2009 in Italia sbarcarono 4.000 persone, nel Mediterraneo morirono 20 persone. E quando abbiamo gestito il fenomeno, durante le primavere arabe, quindi con tensioni e guerre civili sui Paesi che si affacciavano nel Mediterraneo, abbiamo utilizzato altre politiche. Abbiamo utilizzato altre politiche. Io dico questo, è l'ultima considerazione che faccio. Più navi mettiamo nel Mediterraneo, e voglio ricordare che oggi nel Mediterraneo ci sono 4 azioni navali. C'era Mare Nostro, un po' abbiamo fatto Triton, un po' abbiamo fatto Mare Sicuro. È di pochi giorni fa l'operazione EUNAV4MED. Più navi mettiamo nel Mediterraneo, più partenze significa più morti.